A me piace molto. Sai, alle volte ti fanno sedere in certi posti e ti sembra di stare in piedi. Il lavoro come va? Male. Ho già fatto 42 domande tra uffici, banche, fabbriche, niente. Ho risposto a tutti gli annunci economici dei giornali, sempre falsi. Secondo me li scrive il governo per nascondere la crisi. Forse era meglio la scuola. Sì, però potevano anche bocciarmi di meno. Hai visto quanta gente ferma laggiù in fondo? Un incidente? No, no, dicevo ai tavolini. Ah, i signori desiderano. Quelli hanno usato un con ghiaccio. Il solito. Chissà chi sono, cosa fanno, cosa vogliono. I camerieri? No, ci mancherebbe altro. Dicevo quella ragazza. Laura? Laura. E quando l'hai conosciuta, cosa faceva, cosa diceva, come era vestita, ti hai mai parlato di me? Ti piace? No, figurati, questa sì che è buona. No, era giusto così per parlare un po' tra di noi, per far passare il tempo. Sai, niente, ma tante volte fa piacere saperne di più sulle persone, sul mondo, sulla vita. Tu non credi? So che si sposa. Cosa fa? Si sposa. E perché si sposa? Che bisogno ha di sposarsi? Sta bene insieme a se stessa. Bisognerebbe che qualcuno glielo dicesse, insomma, provasse a parlarle. Io credo che in casi come questi, non so, dovrebbe essere obbligatorio. Tu resti qui? Io, ah sì, ti ho già detto che questo posto mi piace molto, ma tu vai pure, divertiti. Io resto. Ci vediamo. Ciao. Divertitevi. Ah, senti, ho visto un vestito molto bello. Perché non me lo regali? Senti, scusa. Grazie. Grazie.